Quarantotto minuti dopo le sette del mattino, buona giornata dalle Grenzi Giuliani e Diaco, ben sintonizzati sulla prima radio italiana RTL cento due cinque. Allora, a centottanta minuti dal termine scorrono i titoli di coda per lo scudetto. Comincia così l'editoriale questa mattina in prima pagina sulle pagine sportive del quotidiano del messaggero guidate da Massimo Caputi. Il titolo del suo editoriale è Juventus e Napoli. Meriti vanno a vincitori e vinti. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Diciamo che ormai lo scudetto è assegnato, c'è l'aritmetica che ancora non ci permette di dare l'ufficialità, ma insomma direi che tutto è scritto ed è l'unico aspetto di questo campionato che può essere archiviato, perché per Champions League, Europa League e retrocessione è tutto ancora da giocare e ci aspettano questi due ultimi turni che credo decideranno il tutto proprio agli ultimi minuti, nelle ultime partite e dell'ultima giornata. Voglio anche dire però che appunto se la Juventus vincerà il suo settimo titolo consecutivo, e questa è un'impresa straordinaria che merita grandissimi elogi, bisogna però anche mettere in risalto quello che ha fatto il Napoli quest'anno, perché la Juve non solo ha vinto il settimo scudetto consecutivo, ma quest'anno se l'è sudato, cosa che gli anni scorsi, non è che non l'abbia fatto, ma dieci giornate dal termine, tutto era già quasi praticamente archiviato. Invece quantomeno il Napoli è riuscito a mettere in difficoltà il Napoli e la Juventus fino all'ultimo. Massimo, restiamo su questo punto, lo abbiamo anticipato pochi minuti fa, ma ce ne siamo occupati anche in linea diretta, spinti dagli interventi degli ascoltatori. Non è cerchio bottismo, lo voglio dire subito, ma è una presa di coscienza di ciò che deve essere lo sport e il calcio in particolare, altrimenti deragliamo tutti. A. Quello che ha fatto la Juventus è già nei libri di storia, perché sette titoli consecutivi, se non lo riconosciamo non possiamo più seguire il calcio. B. Evidentemente vincere non è l'unica cosa che conta, altrimenti in 50.000 non applaudono e fanno festa ad una squadra che ha appena, come dire, alzato bandiera bianca. Dobbiamo essere capaci, come critica, di tenere ben presenti due elementi, altrimenti l'alternativa è veramente l'inciviltà, Massimo. Quello che è accaduto dopo Inter-Juve ha dei tratti preoccupanti. Sì, sì, sono d'accordo, anche perché da una parte non si può sostenere che chi vince sette scudetti consecutivi li vinca solamente perché ha degli aiuti esterni. Perché credo veramente che facciamo un torto a noi stessi se pensiamo una cosa del genere. D'altro canto bisogna anche però dire che vincere, come dicono in casa, bianconera è l'unica cosa che conta, ma non solo. Non solo quando tu sei una squadra che regali emozioni tante, enormi ai tuoi tifosi, sei anche capace di praticare un calcio che dà emozioni indipendentemente poi se il risultato finale è quello di vittoria. E' chiaro che tutti vorrebbero la loro squadra del cuore che vincesse, però questo Napoli ha appassionato, ha avuto i suoi limiti, li ha dimostrati perché evidentemente se no avrebbe vinto lo scudetto, però rimane una grande stagione e nessuno la può disconoscere. Ecco Massimo, però io ogni volta che ci capita di trovarci di fronte ai messaggi degli ascoltatori, soprattutto sulla questione Juventus, sempre, leggo da anni, sono veramente tanti anni, è come se non gli si perdurasse mai qualche cosa fino in fondo. Tu ti sei spiegato nel tempo che cosa è successo e che cosa succede ai tifosi di calcio rispetto appunto alle vittorie della Juventus? È solo invidia sportiva? È qualcos'altro? Guarda, io credo che il nostro paese sia ancora rimasto quello dei comuni e delle signorie e nel calcio questo viene tutto fuori, poi alla fine siamo tutti contro tutti. C'è da dire questo, purtroppo non sono più tanto giovane, ne ho viste un bel po' di partite, sono tanti anni non solo che vado allo stadio ma che faccio questo lavoro. Io ho sempre visto questo atteggiamento nei confronti di chi vince, perché chi vince inevitabilmente, in virtù della sua forza, dei suoi successi, non può essere amato fino in fondo e non può essere apprezzato fino in fondo. Figuriamoci nel calcio, figuriamoci se questa squadra si chiama Juventus, che è quella che ha vinto più di tutti. È chiaro che nel passato, ricordo grandi squadre, il Milan, l'Inter e la Juventus, che indubbiamente hanno avuto non tanto dei favori, ma sicuramente delle situazioni che l'hanno avvantaggiata. Ma perché è così? Perché fa parte anche della natura umana quella di avere determinati atteggiamenti nei confronti dei potenti. Però credo che ricondurre sempre tutto, come in quest'anno, per dire, alla mancata espulsione di Piani, cioè quella di Rugani, a me sinceramente mi sembra troppo, perché chi vince come fa la Juventus da troppo tempo non può essere casualità o frutto di un vantaggio. Quindi sicuramente lo abbiamo visto tutti, ma non sono episodi così determinanti come si vuole far credere. Ma questo riparte, si parte sempre dalla grande ostilità e diciamo anche dal fatto che si vuole giustificare a volte anche una sconfitta. Non mi riferisco adesso al Napoli, dico in generale nel corso di questi anni. Tu parli anche di politica legata al calcio questa mattina nel tuo editoriale, fai riferimento all'ennesima assemblea dei presidenti di Serie A e fai un appello ovviamente alla Lega commissariata che insomma avrebbe bisogno, secondo te, di eliminare ogni interesse di parte. Ovviamente è una demanda retorica. Insomma, ce la faranno? Per Luigi, guarda, il calcio è lo specchio del paese. Secondo te ce la fanno fare il governo? No, ah sì, il governo? No, no, il governo ce la fanno a farlo. Sì, ma però per dire che parte, cioè quante cose... Dipende quale. Eh, deve intervenire il presidente. La mia chiaramente è una battuta, però è così. Fino ad ora questa Lega non si è mai unita e ha progettato il futuro. Perché? Perché c'erano sempre gli interessi di due, tre che hanno prevalso nei confronti di un interesse e di un bene comune. Allora, in questo momento il nostro calcio finalmente, dopo un bel po' di anni, si è dimostrato equilibrato. Come abbiamo detto, no, il duello per lo Scudetto, per la Champions, c'è equilibrio. C'è quindi una prospettiva di un alzamento del livello. Per far questo e per migliorarlo, cioè non si può solamente e unicamente pensare agli interessi personali e soprattutto essere legati unicamente ai diritti TV, che sono fondamentali ed importanti, ma il prodotto del calcio italiano deve essere venduto in meglio in Italia e soprattutto anche all'estero. E per far questo ci vogliono i dirigenti giusti. E allora, come sappiamo, la Lega è ancora commissariata. Siccome c'è il problema dei diritti TV, ancora non si può definire la governance e quindi non si può nominare l'amministratore delegato. Insomma, si perde sempre troppo tempo. Invece bisogna lavorare per il futuro, perché gli altri vanno. Certo. Grazie. Grazie davvero a Massimo Caputi. Ci ritroviamo molto presto. Buona settimana. Grazie per l'intervento di oggi.